Sob in totto scolari galbesi di Zesta, di un tinghizo ogni da rinno a un ponte genoese. Si dravaglia in musica e si ampara in compagnia dei guide della socio Scobre, che li parlano in un corso di annadura. Ma di noi di uso il padrimonio e la sostoria. Dobbiamo scoprire il nostro padrimonio. Per esempio, qui siamo arrivati su ponte genoese. Perché genoese? Chi fai già noi genoese in Corsica? Perché sono venuti? Perché se ne sono andati? Dico, mi sono arrivati a un ponte qui. Questo è un affare magnifico per questi Zedì. Quattro giorni vorrei di esale di glace, l'immersione è un modo di imparare la ghibella. Zedì ha avuto una faccina, una daca finale. E attraverso questa daca ha parlato, ha imparato a lavorare. E di sicuro ha difficoltà di dire la lingua a dare la seconda tornata e usare a parlare più facile. Cigrè è un inizidale. Per lui parla la sua lingua di assai importante e l'abbia già attraverso a lavorare in Danna Dugra. Per me augurso di amare di parlare qui con tutto il mondo. Perché la classe è più dura e qui parliamo e puoi lavorare. E' importante bene perché è già la nostra lingua. Che paga il mondo che ha parlato e ci arriva a parlare. Che tutto il mondo l'apparca. Sarebbe meglio. Un'età un'uva, sulle paese scolari, che non sape, non sape, non sape, non sape, non sape l'uva, 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 ma per l'uva, non sape l'uva e il giardino. Ma berele, fermo un piacere, come dice Benelope. Cigrè è un pego. Cigrè è un pego.